Ciao a tutti amici, venticinquesimo giorno, cosa mangeremo oggi di bello? Allora, peso uguale, tac tac, umore qua, perché intanto ormai la challenge è finita, la felicità, la felicità, finalmente la coppa sarà mia, allora questi guarda, poi vediamo cosa abbiamo da mangiare oggi, abbiamo un po', abbiamo l'insalata di ieri sera, abbiamo questo buonissimo tofu con fagioli, potremmo fare un tortino, magari una vellutata, e questo è quanto, allora ci vediamo dopo per il pranzo. Per quanto riguarda il miele vegano, buttare perché fa cagare, vabbè che le mele sono in frigo da 30 giorni, 30 giorni, quindi probabilmente non è che ho sprecato roba che proprio, dai, ho speso un sacco di soldi, poi ve l'ho detto, ve l'ho già detto, ve la ridico, avevo ordinato questi qui per fare il pull pork, poi ho detto, poca puzza, è arrivata in ritaglio, tutta ammaccata, lo rimando indietro, ho fatto per rimandarlo indietro da Amazon, ha detto, ti diamo i soldi indietro, non ce lo devi neanche spedire, come dire, cioè, chi se ne frega di quella merda, ti entralo, fa cagare, non ce lo compra nessuno, allora praticamente ce l'abbiamo, faremo il pull pork, faremo la ricetta, faremo un tortino, e molto bello, ci vediamo prossimamente, ciao! Ok amici, oggi è il primo di aprile, e quindi dobbiamo fare i pesci d'aprile, ma siccome noi siamo vegani, ho preparato il broccolo, il pesce vegano d'aprile, fatto di broccoli, molto bello, adesso lo ritagliamo, e lo andiamo a appiccicare a chieto, nelle sedi delle persone, dai, andiamo! Allora, chi li va appiccichiamo? Eeeh, come sei? Ciao Mirka, buona giornata, come sei? Non avevi divertito l'ultima notte? Vi ho visto tutti, veramente ammettando tutto, Eeeh, io ho pensato che questa era una delle migliori performanze jazz che ho mai visto, super cool! Super cool! Ok, questo dove lo mettiamo? Diamo lì, così mi è difficile, e lo schiaffiamo qua dietro, ahahahah, c'è tutto qui si vede! Ho fatto questa burla, bellissima! Questa è una burla veramente tremenda, amici! Vediamo come le reagirea! Sicuramente mi dirà che sono un po' impertinente! Una burla amicidiana! Amici, guardate questa terribilissima burla! Un po' di scotch sotto il mouse! Ok, grazie Katie! Bye bye! E così il mouse non funziona più! Ahahahah! Eccolo il burrito, sì ma che triste, non c'è niente sopra, patatine, vediamo cosa c'è dentro! Oh, la tristezza, l'ultimo venerdì da vegano! Gli ho chiesto, no cheese, praticamente dentro! Ci sono i fagioli, la cipolla, un po' di guacamole, si può fare! Si può fare! Diamo un po' di salsa! Adesso sì che ci sta bene! Allora ciao! Ciao! Grazie a tutti